100 ricercatori per la cultura e il nuovo bando che presto da Regione Toscana emanerà a favore dell'alta formazione della ricerca in ambito culturale. Nelle immagini vedete la vicepresidente della Giunta regionale Monica Barni durante la presentazione del bando a Pisa. Attraverso i fondi del POR FSE 2014-2020, il bando finanzia 100 assegni di ricerca per progetti che devono obbligatoriamente nascere dalla collaborazione fra università, scuole di alta formazione e enti di ricerca e gli operatori della filiera culturale e ricreativa come musei, biblioteche, teatri, archivi. Quello che vorremmo far capire è che ci sono molte possibilità con questo bando, cioè un bando per la cultura ma i temi della cultura e soprattutto i cambiamenti e lo sviluppo delle istituzioni culturali possono dipendere da ricerche in ambiti molto diversi. La presentazione del bando presso l'Ateneo Pisano ha avuto come focus gli spettacoli dal vivo e le produzioni audiovisive. Il presidente del teatro Metastasio, Massimo Bressano, ha sottolineato l'importanza di avvicinare la ricerca al mondo della cultura e di offrire ai ricercatori settori alternativi a quello accademico. È importante secondo me perché, e ne apprezziamo in particolare, il cofinanziamento regionale che è molto alto e quindi facilita noi e facilita anche istituzioni culturali più piccole a poter partecipare, a poter ricevere il supporto scientifico o di approfondimento del mondo della ricerca all'interno della propria attività.